Sono arrivati intorno alle 18.30 i 50 migranti a bordo di due pullman provenienti dal cara di Castelnuovo di Porto. E sono stati accolti come centro di prima accoglienza al centro Fenoglio gestito dalla Croce Rossa italiana della città di Settimo Torinese. Da una prima analisi visiva i profughi sembrano tutti in buone condizioni come dichiarato da alcuni volontari presenti sul posto. Come sono arrivati? Come era? Come sono arrivati? Come sono stati accolti? Erano in buona salute? Assolutamente sì. Buona serata, buon lavoro. Grazie. I profughi sono rimasti al centro il tempo necessario per rifocillarsi e per attendere l'arrivo delle varie cooperative. Dopodiché sono saliti sui furgoncini delle cooperative per essere smistati nei vari centri del Piemonte. Dalle statistiche del Ministero degli Interni nel gennaio 2019 fino ad oggi sono 155 richiedenti asilo sbarcati in Italia. Un numero di netto inferiore in confronto ai 4.182 sbarcati nel gennaio 2018 e ai 4.468 di gennaio del 2017. Quelli sbarcati nel 2019 provengono per la maggior parte dal Bangladesh seguiti da Iraq, Tunisia, Iran, Egitto, Sudan, Russia e Pakistan.